Ogni tanto mi ricordo che sono laureato in lettere e quindi leggo qualche libro e oggi voglio fare una recensione che è una recensione di questo libro qua che è Lavorability di Marco Montemagno In realtà quello che c'è scritto sul libro lo trovate anche nei suoi video su YouTube è un YouTuber molto seguito e è soltanto un compendio di quello che lui dice nei suoi video Molto interessante Ok qualcuno si potrebbe domandare ma a cosa mi serve un ex pongista, un ex giocatore di ping pong nel mio lavoro di tutti i giorni o in una piccola impresa come ad esempio una piccola impresa di denteggiatura Serve perché parla di marketing, parla delle strategie di comunicazione Parla di come relazionarsi con gli altri e di come fare meno sbagli possibili Non tanto di come essere migliori ma di come fare meno errori Questo è molto importante secondo me per il lavoro di tutti i giorni È molto importante per il lavoro specifico È molto importante capire che non c'è bisogno di essere multitasking come tutti vogliono essere Cioè fare tante cose tutte insieme perché il cervello umano non è fatto per questo Non è fatto per essere multitasking ma è fatto per concentrarsi su una cosa sola Io questo l'ho capito tanti anni fa proprio con il mio sito internet è solo pittura Perché tutte le imprese tendono in edilizia a fare un po' tutto Ad essere un po' multiservizi Allora l'impresa edile che fa il lavoro idratico, che fa il lavoro elettrico, che fa il lavoro del pavimento Poi sappiamo tutti che all'interno di una piccola impresa edile non ci sono tutte queste maestranze Ma vengono chiamati piccoli artigiani a fare quel singolo lavoro Allora perché occuparsi di quella cosa? Soltanto per far girare l'economia Io non la trovo una soluzione ottima E l'ho capito e l'ho tanto tempo fa e l'ho anche ritrovato in questo libro Che vi consiglio di leggere È un libro molto facile da leggere Vi consiglio anche di vedere i video di Marco Montemagno Perché sono molto interessanti anche per capire come fare delle cose su internet Come fare i video, come fare a essere visibili e appetibili per i vostri clienti A presto e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti